Semplicemente per riportare il tema su quello che è la ratio di questo decreto, che appunto è il riordino un po' del Dipartimento Economia, cercando di ammodernare anche tutti gli aspetti, i processi che riguardano appunto l'insediamento delle nuove attività economiche. Noi dobbiamo pensare che siamo all'interno di un sistema aperto e credo che anche con il percorso di associazione dell'Unione Europea cerchiamo e cercheremo sempre di più di avere attività e attrazione verso nuove attività economiche. Chiaramente ogni attività, essendo un circuito aperto, essendo anche all'interno di uno Stato dove certi fenomeni sono presenti, credo che dovremo continuare a tenere tutti gli alert e i campanelli accesi perché certi fenomeni non si verificano. Io credo che comunque i passi avanti fatti in questi anni da tutti gli organi di controllo, dalla Polizia, dall'AIF, dalla Banca Centrale, dal Tribunale, credo che testimonino come lo Stato, la Repubblica di San Marino si siano sempre ultimamente fatti trovare pronti di fronte a dei fenomeni dove magari rispetto a certe situazioni siamo i primi a segnalare delle sospette anomalie o ci possono essere sospette anomalie che non significa che poi possano sfociare in fenomeni di criminalità organizzata. Tra le altre cose, da quello che risulta a me e quello che risulta dal Tribunale, in questo momento non ci sono fascicoli che possono essere condotti alla malavita organizzata. Quindi se qualcuno ha invece indicazioni di carattere diverso o evidenze di queste situazioni è pregato di andare immediatamente a fare denuncia perché alle ilazioni, credo che non faccia onora a nessuno e non faccia neanche onora a chi tutti i giorni lavorano lacrimente affinché questi controlli possono essere efficienti, efficaci e certi fenomeni non si verificano in Repubblica. Anche il Governo se si hanno delle situazioni tangibili sicuramente si farà pronto, si farà promotore di attivare tutti i controlli e anche gli esposti in Tribunale però per favore facciamo passare il messaggio di un Paese che non è perché rispetto a certe situazioni abbia fatto passi da giganti e credo anche che molto spesso siano state prevenute delle situazioni che diversamente potevano lasciare dei dubbi, ma questo non è avvenuto perché c'è un sistema maturo. Grazie Eccellenza.